Un senso di liberazione perché oramai questa questione era diventata veramente pesantissima per tutti i componenti della scuola, alunni, docenti, tutti praticamente. Roberta Rossani, rappresentante dei genitori nel Consiglio d'Istituto dell'Iceo Scientifico Mancini di Avellino, esprime il sentimento di tante mamme che, con la chiusura della sede di Via dei Concili, hanno dovuto affrontare due anni e mezzo molto difficili. È chiaro che il tempo trascorso da un lato è stato certamente insopportabile, però è pur vero che, come ha detto il Presidente della provincia, crediamo abbia fugato finalmente tutti i dubbi. Speriamo in tempi brevi di poter rientrare nell'edificio storico. Rossani però sottolinea anche come la città abbia avuto fiducia dell'istituzione scolastica e provinciale attraverso un notevole numero di iscrizioni. Nonostante i disagi, i ragazzi hanno in maniera esemplare, ma soprattutto i docenti che si sono dovuti barcamenare sulle tre stedi, gli amministrativi che si sono dovuti sacrificare negli spazi. Non si può immaginare quanto sacrificio c'è stato dietro questa situazione. L'offerta formativa che purtroppo ha subito degli enormi danni, perché senza laboratori in una scuola che è un liceo scientifico, certamente non è proprio l'ideale. Comunque so che anche quest'anno le iscrizioni sono state numerosissime. Grazie.